Buongiorno a tutti, ci vuoi indicare? Facciamo un annuncio importante, le ultime due domeniche con le castagne, poi dalle prossime domeniche purtroppo le castagne sono al termine, troverete i nostri carciofi, invito ovviamente a tutti quanti, i nostri clienti, carciofi da dove? I carciofi e la violetta, parliamo sempre di un prodotto bugiese ovviamente, di razze ce ne sono tante, però giustamente noi proponiamo sempre un prodotto buono, di qualità, morbido, saporito, affinché possano diriziarsi. Vi aspetto a tutti quanti, intanto tecnici di Cassano Calderruste, al nostro amico Raffaele.